Una volta si parlava di olio extravergine d'oliva calabrese come qualcosa di strano e di non tipico delle nostre aree. Oggi l'olio extravergine d'oliva è la nostra cucina, è l'ingrediente principale, armonizza i nostri piatti, riesce grazie alle sue 50 e più varietà che troviamo lungo il territorio a sposarsi bene su ogni piatto. Significa che la metà del reddito che si ricava dall'agricoltura, una gran parte di questo viene proprio dall'olio extravergine d'oliva che è stato in passato ma continua a essere oggi una fonte di reddito che assolutamente è importante per una terra come la nostra dove il settore primario è un settore vocato. Quindi olivicoltura, territorio, terra, origini, sono tutte parole che sposano insieme per portare ad una cosa soltanto alla fine, alla qualità. Assolutamente è il requisito in cui bisogna partire, è il prerequisito da cui bisogna partire per poter proporre poi in tutto il mondo come accade grazie a tutte le esperienze di fiere internazionali a cui i nostri oli partecipano. Quindi possiamo oggi produrre e offrire al mondo un olio di qualità. La Calabria più tipica arriva dai nostri territori. Grazie.